Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Charlene Alberto di Monaco, altro che crisi, arriva finalmente il lieto annuncio. I sudditi sono pazzi di gioia. Ecco che cosa sta succedendo nella famiglia Grimaldi. E chi lo avrebbe mai immaginato? Charlene Alberto di Monaco sorprendono tutti, finalmente dopo la tempesta torna il sereno. Arriva il lieto annuncio, altro che divorzio. La felicità è immensa. Charlene Alberto al settimo cielo. Charlene Alberto di Monaco, per oltre un anno, hanno occupato le prime pagine delle riviste nazionali e internazionali. In particolare, la principessa sudafricana è stata protagonista di un anno molto faticoso durante il quale ha fatto tanto parlare di sì. Charlene di Monaco. La Whitstock per via di una brutta infezione che ha messo a repentaglio la sua vita, è stata ricoverata per diversi mesi in una clinica in Sudafrica e poi in un centro di riabilitazione in Svizzera per curare un esaurimento psicofisico. Da sei settimane è ritornata però a Palazzo Reale. Sebbene insistentemente voci di corridoio davano per finito il matrimonio tra i due reggenti di Monaco, arriva una notizia che lascia tutti a bocca aperta. Altro che divorzio. Il lieto annuncio sconvolge tutti. I sudditi sono al settimo cielo, finalmente la famiglia Grimaldi-Wittstock può tornare a sorridere. Lieto annuncio per i sudditi, la famiglia Grimaldi al settimo cielo. Finalmente la tempesta è passata, Charlene e Alberto sono felici più che mai. Arriva il lieto annuncio. A dare la bella notizia è il settimanale tedesco Das Goldenblatt che dedica uno spazio proprio ai due reggenti di Monaco parlando in copertina di una seconda luna di miele. Alberto e Charlene.Dopo un periodo turbolento che ha fatto spaventare tutti, la principessa sudafricana e il sovrano di Monaco possono finalmente aprire il loro cuore e mostrarsi sereni e tranquilli. Sembra infatti che tra di loro vada tutto bene e il merito è dei meravigliosi gemellini Jacques e Gabriella, complici di aver fatto riscoprire l'amore e l'affetto tra i due famosi genitori. Come racconta un insider vicino alla famiglia reale, Alberto e consorte sono al settimo cielo così come anche i loro bambini. La famiglia è felice e in più occasioni, pubbliche e private, i componenti di casa Whitstock Grimaldi sono apparsi sereni e sorridenti. I sudditi possono tirare un sospiro di sollievo. Tutto il mondo era preoccupato che le condizioni di salute di Charlene potessero avere conseguenze negative per il suo matrimonio con Alberto e soprattutto per la serenità dei piccoli di casa. Fortunatamente l'emergenza è rientrata, Charlene e Alberto, Jacques e Gabriella sono una famiglia serena. La principessa è tornata a sorridere, il suo cuore ora è colmo di gioia. Nessun divorzio dunque all'orizzonte con Alberto.Fino a qualche settimana fa si è parlato infatti di un accordo segreto che avrebbe dovuto porre fine ad uno dei matrimoni più chiacchierati e polemici del mondo reale ma fortunatamente si è trattato solo di voci di corridoio che tali sono rimaste. Alberto e Charlene, come riporta il settimanale tedesco Das Golden Blatt, stanno vivendo un periodo magico e i sudditi si augurano che possa essere così per sempre. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!